Bandaferro, sottosegretario all'interno, sono oggi qui alla festa dei calabresi nel mondo, prima che da sottosegretario all'interno, sicuramente da calabrese, a quella calabrese che in qualche modo qualcuno dice che si può togliere dalla propria terra, ma la propria terra non può togliere da noi. E questo ovviamente esalta anche le tante peculiarità, ma le tante eccellenze che devo dire i calabresi hanno portato nel mondo e che in qualche modo anche i calabresi che hanno deciso di rimanere nella loro terra tentano di fare nella loro quotidianità attraverso grandi sforzi, grandi eccellenze e grandi intelligenze. Un senso di appartenenza aiuta a creare anche una forte comunità? Sicuramente, io penso che sono tra le doti, il senso dell'onore, dell'orgoglio e dell'appartenenza, nel senso più nobile a creare una grande comunità, una comunità che rimane legata sempre e comunque da un filo molto sottile, ma nello stesso tempo un filo che non vuole spezzarsi.